Invece a quanto pare quando si firma un contratto per giocare al calcio si firma anche un impegno di vita e questo io non l'accetto. E se Nunez è presidente del Barcellona non l'accetta è perché vuole essere più forte lui. Non credo che siano dichiarazioni come per far male al Napoli, per quello non credo che il Napoli metta a mano queste dichiarazioni di Maradona, tutto il contrario. Secondo me devo chiarire le cose con Ferlaino, con Bianchi e con Mogi per continuare a fare il Napoli grande, soltanto quello. Dopo tutti questi mesi di polemica penso definirla, penso definirla della miglior maniera. Parlerò con Ferlaino, le dirò che torna una determinazione molto molto drastica su tutto questo perché non penso darle la ragione, a tutto questo che stanno dicendo.